Nessuno di noi può mettere in discussione la tolleranza zero che sta portando avanti il Papa. Questo non era il contesto, mi sembra, dove ripetere ancora questa cosa perché è un'esortazione apostolica per i giovani, dedicata ai giovani e anche a tutto il popolo di Dio. Li invita in qualche modo a richiamare i sacerdoti, a mettersi a fianco ai sacerdoti perché possano ritrovare la loro vocazione, la loro missione, il loro anche comportamento verso tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, ai minori e a tutti coloro che potrebbero essere abusati o trovarsi in quella situazione. Non poteva scrivere tutto quello che si trova nel documento e rimanda al documento finale, al documento finale del sinodo, per cui ha ritenuto che il testo, questo testo è sufficiente perché sia conosciuto dai giovani e dice loro, se non trovate quello che voi pensate, potete andare al testo del documento finale. Quando si parla del ruolo dei giovani, parla anche del ruolo delle donne, poi non è un documento sulle donne questo, è un documento rivolto ai giovani e a tutto il popolo di Dio, non è nemmeno un'esortazione sulla struttura della Chiesa, ma è un invito ai giovani ad essere protagonisti, giovani, ragazzi e ragazze, uomini e donne. Un'attenzione speciale è rivolta al corpo e alla sessualità, essenziali per la costituzione dell'identità personale, all'ambiente digitale, tanto pervasivo quanto ambivalente, ai giovani migranti, paradigma del nostro tempo, tra virgolette, proprio sono le parole del testo, alle vittime di abusi, di potere economici, di coscienza sessuale, in particolare quelli commessi da ministri della Chiesa, si fa un riferimento. Accanto a questi ultimi non mancano però, aggiunge il Santo Padre, coloro che ogni giorno si spendono con onestà e dedizione al servizio dei giovani. Essi sono maggioranza e la loro opera è una foresta che cresce senza far rumore. Grazie.